Ciao a tutti ragazzi, qui è Mr.Dodò Oggi volevo fare un unboxing Infatti perché Mi è riporto questo Lego d'Amazon Piccolo 60275 il codice E' un elicottero Con un motoscafo Un policchiotto Una criminale 200 euro Dollari perché Vanno sempre con i dollari E' qua Questo io ho Già si è aperto da solo E' stato danneggiato Vabbè Credo che non c'è un problema Andremo a tratturare Non c'è Ok Aperto Due Molto interessante Allora Questo E' Poi Il manuale Che sarebbe questo Posso fare anche Il codice Square Poi 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 Il manuale Ci vediamo Allora Adesso Facciamo Le costruzioni Allora Prima cosa Dobbiamo costruire L'omino Lego Allora Questo Questo È il primo Che vi faccio vedere Quello che costruisco Qua Sì Molto bene Allora Ok Questi Vanno qua Aspettate che non vedete molto bene Aspetta Ma dai Mi metto qua Poi Questo Leggo Molto I leggo Sono molto Interessanti Da bambino Una stazione Del 2014 Quattini Avevo due anni Diciamo due anni No Non me l'hanno rubata Infatti Il mio primo Lego È caduto Molto bene È caduto Il telefono Lo so Con la fotocamera Come il primo Video Che ho fatto Allora Il manuale Ci dice Di costruire L'omino Allora Come potete Vedere Allora Io vedo Ok Quindi Si costruisce Questo Facciamo Scattiva Questo Il lumino Leggo Purtotto Ok Adesso Andiamo a costruire La criminalia Questo qua Così Poi La testa La testa Leggo Usate Per le voci Per le voci Ma sono Sorella Mia nonna E mia mamma Allora Poi Questi sono Gli uomini Criminali Poi Andremo Mi serve Le manette Le manette Non glielo andrò a mettere Poi Vabbè la criminale Con i soldi Ma Vabbè Questo non ce ne importa Tanto Poi andremo A fare Prima cosa Il motoscafo Va fatto così Lo faccio senza Vedere Va qua Per essere Figuri Non si poter Tutti sbagliano Ok Così Allora va montato Prima questo pezzo Poi va montato Questo Che già non si monta Però Sì siamo tornati Di nuovo Allora Andiamo a ricostruire Andiamo a costruire Quello là Poi Ci servono Questi due pezzi Tenete Vado solo uno Fino adesso Questo Questi Questo Tutti due Dobbiamo montarli Uno mettere qua E poi Uno mettere qua Ok Adesso serve Questo E stiamo a buon punto Abbiamo già Questo Devo già capito Che si deve Mettere qua Ho fatto Sì è vero Infatti la pagina dopo Siamo Pagina dopo Ecco qua Questo sarebbe Il motoscaffo Adesso si che inizia Il vero montaggio L'elicottero L'elicottero Che faccio Allora questa E lo Va bene Allora Sigo la porta Scusa Per ti suorline Ma Io Lo Sistema Poi Sì Prima cosa Credo Per l'elicottero Ci voglio Infatti Cosa Che Dio Io Non ho mai capito Come si tratta L'elicottero Si 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 Dobbiamo Prendere Questo Questo Qui E Metterlo Qua Dietro Ok Poi Questo Ci serve Poi Questo Poi Uno Di Questo Questo E Questo Quasi Quattro Pezzettini Serviranno Per fare Questo Quello Quello Aggancio Per fare Adesso Vi faccio Vedere Così Così Con questo Dietro E qui Questo Così E lo Dobbiamo Andare Poi Agganciare Qui E Così Ecco qua Ecco qua Un pezzetto Di L'elicottero Già poi andiamo a fare un'altra cosa andiamo adesso all'elicottero di nuovo dovete questo è questo di qua e questo di qua e facciamo quattro anni tra questo così dobbiamo andare a mettere questo qui ho messo così poi dobbiamo andare qua no ce l'avevo in mano ce l'avevo in mano poi dobbiamo mettere questo specialissimo che non ho mai visto nella mia vita di ego ho visto in un altro modo questo questo pezzettino proprio aspetta prende fuoco vabbè avete capito che cosa è no si quelle cose degli elicotteri va messo qui davanti perché le ho messo l'incontratto quindi devo metterlo così sarà un errore di stampa ma deve andare così diventare così così che è quello la deve vedere da dentro certo mi è scuerto che ho ragione io comunque adesso andiamo a mettere la sedia perché dove si siede di tenere il controllo che scomodo così esce un altro di questo che già ho capito come funziona questo poi un altro di questo questi poi ho passato la pagina avanti senza saperlo poi dobbiamo andare a mettere questo questo ti posso metterlo qui adesso andiamo a mettere questo il vito dopo aver fatto tutto queste cose ma certo vabbè allora mettiamo questo questo è un elicottero iniziale poi per un attimo mi sono fermato non so perché ma poi mi sarebbe questo pezzo che non so dove allora va qui un pezzo si poi va questo pezzo qua poi va questo pezzo qua poi va questo qua questa è la luce e questa elica qui ok molto interessante va benissimo poi dobbiamo andare a mettere quella luce che può andare così noi facciamo questo poi dobbiamo mettere questo qua questo pezzo e andiamo a mettere questo e lo andiamo agganciare qui come vedete qua proprio qua qui deve andare agganciato proprio qua 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 andiamo a fare le eliche questo 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 questi poi andiamo a fare qui che non ho capito il senso perché l'hanno messo così qui mezzo poi non so il senso che l'hanno messo non so che l'hanno fatto no leggo due e va messo giusto già siamo pronti oh qui un po' piccolo eh un pochino piccolo non ci dobbiamo scontentare ok bene adesso andrà bene connessione connessione ho detto collezione vabbè comunque andiamo adesso mi sembrava che non ci trovavamo infatti è un errore di stampa comunque ciao qui da mister dodo è tutto finito e sono tanto felice se arriviamo almeno a 40 mi piace un altro unboxing e se ne arriviamo a 30 di mi piace la seconda parte del video dei video dei video dei video del mini movie no del video del video il video del lego del mini movie a 30 mi piace 30 mi piace bene da domenico da mister dodo è tutto ciao e ragazzi prima di andarvene volevo farvi vedere il risultato ciao 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 ciao